Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. La notizia è stata data dal fratello Ottaviano sui social. Caro fratello, sei stato la mia guida e il mio mentore. Ti vorrò un mondo di bene e sarai sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, il tuo pupillo Ottaviano. Arnaldo dell'Acqua è morto il 23 luglio a Roma all'età di 86 anni. Nato a Campobasso il 14 maggio 1938 proveniva da una famiglia di cascatori. La sua carriera iniziò nel circo, ma presto si trasferì a Cinecittà dove iniziò a lavorare come controfigura. Arnaldo prese parte a oltre 120 film, diventando uno degli stuntman italiani più noti. Tra i tanti film a cui partecipò, ricordiamo lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, Piedone lo sbirro e Gli invincibili tre. Questa perdita lascia un grande vuoto nel mondo del cinema e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. La sua dedizione e il suo talento hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema italiano. E tu, quali film ricordi con affetto in cui Arnaldo dell'Acqua ha lavorato come controfigura? Faccelo sapere nei commenti!